Il spettacolo di Britten In due parole diciamo che è una delle opere che lui ha fatto delle opere più importanti di lui per un gruppo piccolo di cantanti e di musicisti E' importante anche per i ragazzi avere un'idea non solo di quello che è fare il musicista in un ambito di concerto ma anche in un ambito di teatro musicale All'interno della storia diciamo sono il personaggio più gioioso e anche il più giovane Siamo un gruppo di 8 studenti e abbiamo il compito di gestire la scenografia dello spettacolo Ed è così che nascono le cose migliori perché gli studenti hanno modo di crescere e crescono enormemente Abbiamo pitturato un supporto di nero e lo stiamo incidendo Stiamo facendo la crescita di un germoglio e praticamente quando arriverà alla sua crescita più rigogliosa Noi faremo praticamente il suo appassimento e stiamo un po' lavorando su questo oggi Stiamo lavorando all'infografico appunto dell'evento delle Hip Hop Lucrezia Che si svolgerà il 5 maggio al Palazzo dei Congressi In una serata dove tre dipartimenti della SUBSI lavorano ma tantissimi studenti insieme e docenti E questa è un'esperienza molto forte e molto ricca per la SUBSI e per tutti che sono coinvolti Grazie che è possibile fare questa esperienza Grazie